Fabio Becchi, Presidente Provinciale Shape Savona, benvenuto, con lui vogliamo parlare un po' di locazioni brevi e dati sul turismo. Tanto è un argomento molto importante che in questo momento è all'ordine del giorno perché c'è stato uno sviluppo dopo il Covid di locazioni brevi che ha inciso in termini importanti di percentuali. Noi abbiamo fatto un'indagine in rapporto al 2022 che abbiamo avuto un più 5% di locazioni brevi e ci sono stati degli aumenti di canone del più 4%. Siamo ottimisti, molto ottimisti per il 2024 e abbiamo stimato con il nostro centro studi Fiaipe di Roma che a livello nazionale sarà un più 8% perciò secondo me verrà confermato questi dati positivi sulla provincia di Savona. Numeri importanti ma è vero che gli affitti brevi costituiscono una sorta di concorrenza mi passi il termine sleale nei confronti degli alberghi? È una domanda che mi fanno spesso nelle riunioni dove ci troviamo nel comitato turismo con i presidenti delle altre associazioni. Io ritengo che le locazioni brevi sono un mercato parallelo e non è una concorrenza perché se lei guarda bene anche una pubblicità che sta uscendo adesso sui canali televisivi chi si indirizza verso l'immobiliare delle locazioni brevi ha delle esigenze diverse come il turismo dell'albergo per esempio questa pubblicità dice se vuoi prenditi una casa che non vai a dormire lo stesso orario dei bambini e questo fa riflettere molto che c'è un mercato parallelo delle locazioni brevi perciò non è concorrenziale agli alberghi. Poi a me risulta che gli albergatori, chi ha investito, chi ha fatto veramente degli investimenti importanti nei servizi sta lavorando ugualmente. Esiste un codice CITRA obbligatorio ma ci sono timori che vengono usati correttamente? In altre parole paura di abusivismo. Sì, mette il coltello sulla piaga. È importante che ci siano dei controlli da parte delle polizie locali di questi annunci di locazioni brevi. Tutti devono avere il codice di identificazione che diventerà poi CING a livello nazionale con il decreto Sant'Anchevo. Fabio Becchi, grazie. Grazie a voi. Paolo Prato, Presidente regionale di Confine Inizia, benvenuto. Quali sono, dal vostro punto di vista, le problematiche principali relative agli affitti brevi? Sì, intanto grazie per l'invito. Gli affitti brevi sono senz'altro un tema caldo e attuale e fondamentalmente per la confedilizia assolutamente non bisogna colpevolizzare gli affitti brevi. L'accanimento che si sta dimostrando da più parti verso gli affitti brevi è assolutamente ingiustificato. Questo perché sono sicuramente un volano imprescindibile per l'economia delle province Liguri e non devono rappresentare concettualmente quello che un po' sta avvenendo, quindi né l'abusivismo né una concorrenza sleale nei confronti delle strutture alberghiere, perché assolutamente non è così. Non bisogna quindi avere una visione di questo tipo, ma vederli come uno spazio di autonomia privata. Quindi a nostro parere continuare a regolamentare, aumentare adempimenti, aumentare la tassazione è senz'altro la via sbagliata, anzi se si vuole incentivare l'affitto 3 più 2 piuttosto che 4 più 4 occorrerebbe invece detassare gli affitti lunghi rispetto agli affitti brevi, tantomeno può essere considerato diciamo come foriero di concorrenza sleale nei confronti degli albergatori, in quanto assolutamente i mercati sono differenti, chi intende andare in albergo e chi richiede un affitto breve ha delle tipologie, degli obiettivi di vacanza assolutamente differenti. Non solo, quindi l'incipit è sempre lo stesso, vogliamo fare turismo? Se il turismo aumenta la domanda, non ci sono i posti per accogliere soprattutto il turismo straniero, quello che occorre fare è un approccio sia per quanto riguarda gli albergatori sia per gli affitti brevi, cioè deve essere un obiettivo, una visione win to win, perché nel momento in cui si colpiscono gli affitti brevi si colpisce l'intero mercato del turismo, quindi colpire gli affitti brevi è un autogol per il settore turistico. In provincia di Savona le ricadute sul turismo degli affitti brevi? Le ricadute sono senz'altro importanti, come dicevamo è un volano imprescindibile per l'economia nel Savonese e soprattutto per dei piccoli centri dove ci sono delle città che vivono prevalentemente di turismo, senz'altro e sulle seconde case, così come non solo sulle locazioni turistiche e sulle case vacanza. Colpire questo settore vuol dire colpire l'indotto economico in generale, quindi assolutamente la proposta deve essere win to win perché a vincere è il mercato turistico nel complesso e l'indotto anche ad esso collegato.